Oggi impareremo qualcosa di nuovo sulla fotografia e su come catturare immagini migliori e lo faremo andando a esaminare le fotografie di uno di voi che mi ha cortesemente inviato affinché io gliele revisionassi. Se volete partecipare è semplicissimo, mi mandate un messaggio privato su Instagram con un link al vostro portfolio, un link che non scade, quindi qualcosa come Amazon Photos o Google Drive in maniera tale che io possa guardarle anche fra un mese perché siete in tanti. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare e mi occupo di fotografia per mestiere da tanti anni, vado a revisionare e reagire alle vostre foto andandovi a segnalare se qualcosa poteva essere fatto meglio, invece se le reputo dei capolavori vi dirò che va tutto bene così. Questo è un format che vi sta piacendo molto per cui io invito tutti quelli che non l'avessero ancora fatto, oltre a partecipare anche a iscriversi in maniera tale da non perdere gli ulteriori episodi, magari nel prossimo episodio ci saranno proprio le vostre foto. Ma io direi a questo punto saltiamo all'interno del mio computer e andiamo a vedere questo portfolio. Prima immagine, eh, qui siamo su una difficoltà medio alta secondo me, andiamo un po' a vedere i dati di scatto se ci sono. Siamo a 200 mm f11, un due millesimo di secondo ISO 1600. Intanto vedete che dai dati di scatto già si capisce che qui abbiamo a che fare con una persona che un pochino sa quello che sta facendo perché questi non sono dati normali di scatto, in un momento diurno con una luce piena così sarebbe molto più facile trovarsi con delle fotografie ISO 100 e magari con dei parametri completamente diversi. Qui è evidente che ci sono stati dei ragionamenti dietro che hanno portato a questa sintesi perché stiamo catturando un oggetto che si muove molto velocemente e quindi abbiamo scattato a un due millesimo di secondo che è pochissimo, è un tempo molto breve, ma per avere il nostro aereo perfettamente cristallizzato in questo movimento credo che stia atterrando a giudicare dall'inclinazione del muso però non sono sicuro, però quello che ci interessa è il gesto tecnico perché comunque beccare un aereo che ti sta sfrecciando davanti non è difficilissimo, basta un po' di tempismo e magari usare la raffica. Mettere a fuoco correttamente e soprattutto mettere a fuoco correttamente magari se ne occupa la fotocamera ormai, però avere il tempo giusto e quindi di conseguenza i parametri giusti per catturare correttamente il nostro oggetto quella è una cosa un po' più difficile. Se lo facciamo con lo smartphone o una roba del genere, l'aereo ci passa davanti, lo smartphone non lo vede neanche l'aeroplano che ci passa davanti, quindi queste sono cose che riusciamo a fare solo con una fotocamera e solo se la sappiamo usare. Sempre per quanto riguarda catturare correttamente il movimento qui abbiamo un altro esempio, qui abbiamo una fotografia che non mi fa impazzire, ve lo dico, dal punto di vista compositivo e narrativo non mi fa impazzire perché ci sono un po' di elementi che secondo me non funzionano benissimo, ve ne dico giusto un paio. Il primo è che non sono sicuro che la foto sia perfettamente a fuoco, cioè è evidente che abbiamo uno sfocato da movimento sul martello, però visto che per fare una cosa del genere si deve giocare sui tempi, a me sembra di vedere comunque che c'è un po' dappertutto un po' di sfocatura, anche sulla zip della cerniera, anche la stessa mano, secondo me c'ha un pochino di micromosso. È un difetto tecnico trascurabile perché comunque nell'ambito della narrazione questa cosa ci stava bene, non è così grave, però è una cosa che a me non fa impazzire. Altra cosa che non mi fa impazzire, la scopa messa dietro di traverso, quella veramente non mi piace neanche un po', io l'avrei tolta, so che magari non era possibile, sto cercando il pelo nell'uovo. Altra cosa che non mi piace, sul lato destro, dietro a quel ragazzino suppongo, c'è un'area bruciata molto forte, molto intensa che mi fa andare l'occhio proprio lì. Questa è una cosa che secondo me non va bene, io avrei cercato di eliminarla quella cosa, anche in posto se non fosse stato possibile in scatto, perché mi dà veramente un po' fastidio. E poi globalmente a livello narrativo io capisco l'intento, c'è questo vecchio signore si capisce dalle mani, è un vecchio operaio che sta facendo qualcosa e fin qui il racconto mi va bene. Poi però dietro abbiamo questo ragazzino che non si capisce cosa sta facendo, quindi io non capisco, non capisco che interazione c'è. Cos'è un nonno che sta riparando qualcosa per il suo, per suo nipote? Non si capisce questa cosa. Il ragazzino è interessato al vecchio mestiere del nonno oppure non gliene frega niente? Anche questa cosa io non la capisco. A livello narrativo io avrei giocato un po' di più su questa cosa. Magari non erano parenti nostri, magari eravamo lì in attesa a farci fare un lavoro anche noi e quindi non è che si poteva chiedere alle persone di mettersi in posa. Però se fosse stata una scena posata io avrei lavorato un po' di più su questi aspetti. Notturna, innevata, allora scene come queste a me richiamano sempre la montagna quando ci andavo da bambino perché adesso non nevica più, quindi sono cose da altri tempi ormai, perlomeno alla quota a cui andavo io. Bianco e nero, non sono tanto sicuro che sia la scelta giusta il bianco e nero perché secondo me quelle luci lì potevano avere un bel calore, poteva essere interessante la cosa. Vediamo un po', ISO 6400, un quarantesimo di secondo f2.8. Allora, io suppongo che sia stata scattata a mano libera, perché per avere dei dati così mi sarebbe piaciuto vederla su tre piede questa, io questa l'avrei scattata su tre piede, avrei usato una posa un po' più lunga, avrei abbassato un po' gli ISO, globalmente, così a naso. Stiamo usando una Nikon D750, quindi è un'ottima macchina, però con qualsiasi macchina se andiamo a ISO 6400 un po' stiamo sacrificando, stiamo sacrificando un po' di colori e stiamo sacrificando un po' di gamma dinamica, quindi personalmente io questa avrei provato a scattarla con un tempo di posa più lungo, anche perché la neve che cade poteva creare delle scie molto più interessanti di così e l'avrei voluta vedere a colori. Non è una cattiva immagine, però diciamo che secondo me si poteva ricercare di più. Questa bella, su questa c'è poco da dire, tranne forse un paio di cose. Allora, io credo che sia un panorama, nel senso un panorama sticciato, perché non vedo i dati di scatto e siccome non vedo i dati di scatto suppongo che siano più foto messe insieme, il che ci sta, è una cosa che si fa. Ovviamente l'immagine è bella, molto suggestiva, c'è una cosa che io avrei fatto diversamente, avrei dato un po' più di aria sulle cime delle montagne e forse avrei anche dato un po' più di aria sotto dove ci sono queste rocce, perché abbiamo le montagne proprio a pelo sopra e abbiamo questi massi che entrano appena nell'immagine. Io sarei stato forse un pelino più indietro per fare questa. Almeno il lago sembra catturato per intero, però un po' più di aria intorno, in generale un po' più di aria, anche perché questa appunto è una bella immagine. Diciamo che qualcuno ce la chiede per stamparla, e così non va bene, non si può stampare con così poco margine, bisogna rifilarla, bisogna calcolare le abbondanze, quindi lasciamo un po' più di spazio intorno ai nostri soggetti quando componiamo. Per il resto è sposta bene, lo stitching è fatto bene, soltanto a livello di composizione io avrei modificato due cosine. Andiamo avanti e questo è interessante, Lake Gollet. Io non ci sono, non credo di esserci mai stato, il paesaggio sembra quasi lunare, molto bello. Qui c'è una cosa che io modificherei, ovvero tutto quel pavimento prima del lago. Ditemi voi, a me non sta regalando nessuna emozione. Qui per me il soggetto è le montagne, il lago, un pochino il cielo, ma neanche troppo. Tutta quella spianata di rocce lì sotto a me non sta dando nulla. Io forse l'avrei fatta, non dico più da vicino, io avrei rifilato quella parte bassa perché la trovo ridondante, non mi aggiunge praticamente nulla. Magari c'è un motivo per tenerla che io da qui non riesco a intuire, però io l'avrei segata in maniera tale da non vederla tutta quella spianata di rocce perché non mi sta aggiungendo nulla. Per il resto devo dire, allora dati di scatto, siamo a 34 mm f8, un ottocentesimo di secondo ISO 200. Ecco qua a me la cosa che verrebbe da dire è, ISO 200 perché? Siamo in pieno giorno, siamo a nostro agio, io sarei sceso a ISO 100 e avrei scattato a un quattrocentesimo. Addirittura io magari avrei chiuso a f11 e avrei scattato a un duecentesimo, cioè si potevano forse gestire meglio i parametri in questo caso, forse qui c'è anche il fatto che siamo in giro, abbiamo scelto dei parametri che più o meno vanno bene sempre e quindi poi li abbiamo ottenuti, quindi sia che stiamo facendo uno stambeco, un camoscio, sia che stiamo facendo un paesaggio, l'esposizione comunque è giusta. Però nell'ottica di una foto come questa io avrei lavorato meglio su quei parametri. Poi parliamo nei commenti, magari c'era un motivo specifico per scattare con quei parametri lì, ma io li avrei fatti diversamente. Questa è molto bella, questa è assolutamente pubblicabile direi, bisognerebbe andare a ingrandire spasmodicamente, fare un po' i fanatici per vedere se l'aeroplano è perfettamente a fuoco, però c'è della foschia davanti, c'è del vapore, dell'acqua, dell'acqua vaporizzata, quindi è difficile che sia perfettamente a fuoco un'immagine come questa, però secondo me è molto buona, questa qui è la tipica immagine che poi viene pubblicata sulle riviste di settore per cose di questo tipo, 500 mm f6.3 o un 3200esimo ISO 800. Anche qui vedete, parametri che ci fanno comunque capire che sappiamo quello che stiamo facendo, non l'abbiamo scattata in automatico una foto così, perché in automatico non veniva, in automatico o con lo smartphone una cosa del genere non viene, quindi ci vuole mestiere per tirare fuori una cosa di questo tipo e i colori che io vedo sulla parte bassa, sulle foglie, sono molto più belli rispetto ai colori che vedo sull'aeroplano, però questo mi fa capire che era fatta a regola d'arte, io vedo l'aeroplano sbiadito perché c'è una nuvola del vapore, dell'acqua vaporizzata davanti, che quindi mi crea un po' di interferenza, però la foto è scattata secondo me nel modo migliore possibile, per niente facile da beccare una cosa del genere, un bel momento molto forte con quest'acqua che va giù, bella foto, questa potrebbe essere la mia preferita. Siamo sempre su un Nikon D750, una macchina che io amo, a me piace molto quella serie di Nikon, qui siamo a 24 mm f11, un 0,05 di secondo ISO 800. Allora ragazzi, ci sono diverse scuole di pensiero, anch'io l'ho sentita la cosa che quando scattico la neve è meglio alzare gli ISO perché non me lo ricordo neanche più perché, tanto io non lo faccio. Il discorso qual è? Secondo me qui, alzare gli ISO e scattare quindi ISO 800, poi parliamo nei commenti, magari c'è una motivazione forte che io non vedo, secondo me è inutile se non anche dannoso. Perché? Perché abbiamo un po' di perdita di gamma dinamica, cioè normalmente se io scatto a ISO più bassi la gamma dinamica si mantiene meglio e in questo caso non dico che sarebbe stato risolutivo perché comunque abbiamo il sole in camera, quindi il sole viene sempre bruciato, non ci sono possibilità. Però io questa l'avrei scattata a ISO 100 e quindi magari non a un cinquecentesimo di secondo, che è inutile secondo me, una scena del genere scattarla a un cinquecentesimo di secondo è inutile perché è una scena statica, si può scattare a un sessantesimo di secondo una cosa del genere e quindi scattare tranquillamente a ISO 100 anche a mano libera. Eppure una scena del genere se si fosse fatto un bracketing secondo me avrebbe reso meglio. Poi magari c'è il bracketing però non credo perché vedo i dati di scatto, quindi secondo me non è miscelata. Secondo me è una cosa del genere che è anche una composizione non fortissima, cioè è una bella alba suppongo, è una bella alba quindi uno dice la foto la faccio, però non è una composizione fortissima, c'è giusto un po' di framing però io vedo qui questa panchina innevata che non capisco dov'è, le montagne dietro sono così lontane e col flare del sole davanti non capisco dove sono. Vedo dai metadati che è il sentiero di Chamois però se non l'avessi visto nei metadati non l'avrei saputo. Secondo me non è fortissima quest'immagine e sapete che io ve ne devo eliminare un paio a meno di non trovare altri candidati questa è una che io eliminerei. Anche perché è rifilata strana, vedete? Cioè non è tre mezzi, non è quattro terzi, non è quadrata, è rifilata strana. I rifili magari c'è un criterio, magari è una razio particolare che io non conosco però a me sembra rifilata per escludere qualche elemento di disturbo e rifilare in questo modo a me non piace in generale, sono molto molto ligio ai formati classici. Quindi questa sicuramente è una di quelle che io eliminerei. Questa invece mi piace un sacco perché i fulmini, cioè ci affascinano a tutti i fulmini, belli da vedere, brutti da toccare. È sempre bello un gesto tecnico come questo, la composizione mi piace perché mi domando se ci sia stata della pianificazione dietro perché non è facile per niente prevedere cosa farà un fulmine. Quindi tu componi alla belle meglio e speri che il fulmine si metta dove vuoi. In questo caso è andata molto bene perché il fulmine ha riempito perfettamente il quale poi magari è stata rifilata, croppata, io questo non lo so. Andiamo un po' a vedere i dati di scatto. 14 mm f2.8, bello bello il 14 mm, sempre su Nikon D750, f16, 10 secondi probabilmente in modalità bulb e ISO 50. Ecco, questa è una scelta di scatto che mi trova molto d'accordo. Siamo a 14 mm, suppongo quello 14 mm fisso, f2.8, stiamo scattando a f16, abbiamo fatto 10 secondi di posa probabilmente perché eravamo in modalità bulb, abbiamo aperto e quando è partito il fulmine abbiamo richiuso. Perché una volta che è arrivato il fulmine, il fulmine viene impresso e registrato, a quel punto si può chiudere lo scatto. ISO 50 che sono un'espansione, almeno su Canon è un'espansione, credo anche su Nikon, correggetemi se sbaglio, forse Nikon nativamente ha l'ISO 50, però su Canon è un'espansione. Espansione che cosa significa? Quindi che non abbiamo vantaggi in termini di gamma dinamica perché i veri ISO nativi sono ISO 100. L'espansione a 50 è un'espansione a ribasso che serve a togliere luce all'immagine in modo da poter allungare la posa e in questo caso funziona molto bene e l'immagine è molto forte. Se si fosse capito un po' meglio, se ci fosse più lettura sull'area scura in basso sarebbe stata secondo me ancora più forte. In questo caso si sarebbe potuto fare una posa per catturare il fulmine, tanto siamo in bulb su cavalletto immagino per fare 10 secondi di posa. Noi apriamo, facciamo il nostro bulb, catturiamo il fulmine, vediamo che la terra viene nera e il fulmine viene illuminato, a quel punto facciamo un'altra serie di scatti in bulb più lunghi in maniera tale che con gli scatti successivi catturiamo correttamente l'esposizione della terra, della baita e dell'albero, dopodiché facciamo una miscelazione HDR in post produzione e così abbiamo la piena lettura su tutto il fotogramma, secondo me veniva più forte. Sto facendo il pignolo perché la foto va benissimo così, però se ci fosse stata lettura anche nelle parti scure sarebbe stata ancora più potente secondo me. Fuochi d'artificio, ragazzi andiamo a vedere i dati di scatto perché questo è interessante, proprio come il fulmine, qui vediamo un po' di casistiche in cui vedendo i dati EXIF è interessante per tutti perché impariamo come sono state fatte e queste sono cose dove magari anch'io se mi chiedete come si fanno i fuochi d'artificio, ma io non lo so come si fanno, non me lo ricordo più, vado lì, scatto il primo, più o meno ci azzecco e poi regolo i tempi di conseguenza se voglio più o meno scie, però non ho in testa un parametro fisso, ho in testa più o meno dove mi devo collocare, vediamo questi come sono stati fatti. Siamo sempre col 14 mm, siamo a f14, 4 secondi e sempre ISO 50, ISO 50 sempre per lo stesso motivo, 4 secondi probabilmente è, dobbiamo trovare il bilanciamento giusto a seconda della scena che stiamo guardando, 4 secondi serve ad avere i fuochi d'artificio comunque esposti correttamente con la scena gestita in una certa maniera, se vogliamo più scia dobbiamo aumentare i tempi di posa, non oltre secondo me i 10 secondi, se no diventa inutile e poi si sovrappone troppa roba, quindi tra i 3 e gli 8 secondi una cosa del genere, qui siamo a 4, il diaframma secondo me in questo caso serve esclusivamente per regolare l'esposizione perché a quella distanza non stiamo giocando con la profondità di campo, a quella distanza viene comunque tutta fuoco la scena perché è molto lontana, quindi abbiamo chiuso a f14, sì per avere nitidezza magari, però potevamo, forse potevamo chiuderlo un pochino di meno anche perché comunque f14 comincia ad esserci magari un po' di diffrazione, però capite che questo è un buon punto di partenza per fotografare fuochi d'artificio perché in qualunque contesto se siete con un bel trepiedo, se vi appoggiate a un muretto un 4 secondi, un 3 secondi di posa dovreste riuscire a farli e questi parametri più o meno con qualsiasi macchina li tirate fuori, non avete ISO 50, fa niente, vi mettete a ISO 100 anche a ISO 200 e state a f6.3 invece che a f14, si regola la cosa e comunque la foto la portate a casa DIGA, allora questo, io non capisco dove ci troviamo, DIGA di Place Moulin, vi dirò che non so dov'è, non so neanche come si pronuncia, però bello, mi piacerebbe andarci, l'acqua della DIGA, io ne ho visitate diverse di DIGA, non so per quale motivo, ma l'acqua prima delle DIGA ha sempre questo colore bestiale, allora cose che mi piacciono e cose che non mi piacciono, mi piace il posto sicuramente, l'esposizione è gestita nel modo migliore possibile perché è gestita bene, però il momento della giornata non va bene per niente secondo me per fare questa foto, perché il sole in campo così è un pugno in un occhio, te la rovina tutta e io lo so che tu passi di lì a quell'ora, non è che dici adesso sto qui nove ore per fare contento Ferrari, no, fai la foto nel momento in cui passi, però in un mondo ideale questa non è l'ora ideale per fare questa foto perché questo sole crea un contrasto che secondo me toglie più che aggiungere, abbiamo questo pugno bianco in camera proprio nel mezzo dell'immagine che secondo me toglie tantissimo all'immagine, un'altra cosa che non mi piace è che la DIGA si vede a metà, questa l'avrei fatta un pelo più indietro, la DIGA l'avrei presa tutta, cioè qui la DIGA secondo me è soggetto centrale, principale, l'ho capito l'intento di prendere la DIGA da una parte e il sentiero dall'altro, però segare fuori parte della DIGA secondo me le toglie potenza, io la DIGA la vorrei vedere tutta qui, quindi avrei fatto la foto spostandomi un pochino da un'altra parte, magari non si poteva e mi rendo conto comunque che l'esposizione per il momento della giornata in cui eravamo è gestita bene e c'è anche un pensiero dietro, quindi io l'avrei fatta diversa però non ho tanto da recriminare, in fin dei conti va bene così, non proverò neanche a pronunziare il nome di questo lago perché sennò faccio figure, andatevelo a leggere e qui siamo sempre con la bellissima D750, abbiamo il 24mm f2.8, un quattro millesimo di secondo ISO 800, ragazzi vedete io qui non capisco perché questi dati, forse stiamo scattando in automatico, io veramente non capisco perché questi dati, ma qui vedete che questi dati ci hanno penalizzato, perché abbiamo chiaramente una perdita di dettaglio nelle alte luci e questo è dovuto secondo me al fatto che stiamo scattando ISO 800, cioè non ha senso secondo me scattare ISO 800 un'immagine come questa e scattarla a un quattro millesimo di secondo, io posso capire che uno dice ci sono delle persone che si muovono, magari una sta addirittura correndo e la voglio cristallizzare, quindi scatto velocissimo, però non ha senso secondo me cercare di cristallizzare quella persona perché è un puntino piccolo così, quindi per come la vedo io è irrilevante nel nostro frame, quindi che sia cristallizzato o che sia addirittura palesemente mossa, quella persona che cammina sul sentiero cambia niente secondo me, la vedi appena, non ti cambiava nulla e poi soprattutto se anche volevi cristallizzare quella persona era sufficiente un cinquecentesimo di secondo, un ottocentesimo di secondo, non c'era bisogno di scattare a un quattro millesimo e quell'ISO 800 secondo me ci sta penalizzando tanto perché se scattavamo a ISO 100 avevamo, ci sono alcune macchine che hanno il dual ISO poi, io non lo so, non me lo ricordo, magari questa macchina ha il dual ISO, però secondo me no e secondo me scattare a ISO 800 comunque è la scelta sbagliata perché ISO 800 è un quattro millesimo per una scena come questa, io qui avrei scattato a ISO 100 diaframma F8 invece di F2.8 e i tempi regolati di conseguenza saremmo stati probabilmente su un duecentesimo di secondo, una roba del genere e secondo me avevamo una gamma migliore, mantenivamo una gamma migliore su tutto il fotogramma, qui secondo me ci sono delle aree un po' bruciate là in fondo dove c'è la neve e anche nelle nuvole e tutto questo si poteva evitare scattando in un'altra maniera. La composizione ci sta, proprio i dati di scatto che a me personalmente non piacciono, mi domando come mai questi dati di scatto, poi magari ne parleremo nei commenti. Andiamo avanti, altro bel panorama, qui abbiamo un po' di autunno perché io vedo un po' di alberi che si sono tinti di rosso, bel panorama, niente da dire, qui dov'è che siamo? Tornion mi pare di vedere, sì sì deve essere così. Vedo una certa attitudine a panoramizzare in questo portfolio anche perché i paesaggi comunque si prestano, ci sta, in questo caso vedete che le cime delle montagne hanno un po' di aria quindi secondo me è molto meglio in questo caso rispetto all'altro panorama che avevamo visto in precedenza e che è strano, qui vedo i dati di scatto anche se è un panorama, forse questo non è un panorama ma forse è scattata così e poi rifilata, può anche essere. 52 mm f2.8, un 1.250 di secondo, anche qua non capisco com'è stata scattata, forse è stata scattata col 52 mm e poi è stata ritagliata, non credo, secondo me è meglio fare uno stitching in questo caso, però insomma non ero lì quindi non conosco il contesto, però una cosa ve la posso dire, io questa foto non l'avrei scattata a f2.8, l'avrei scattata a f8 e non l'avrei scattata a un 1.250, l'avrei scattata con tempi regolati in base al diaframma e agli ISO che ho scelto, ISO 100 va bene, f2.8 secondo me si poteva fare altrimenti, è anche un 1.250, cioè non c'è movimento qui, non devo cristallizzare un movimento, quindi scattare così rapido non serve a niente e anche tenere il diaframma così aperto, cioè il diaframma io lo chiuderei un pochino per avere più nitidezza, lo sweet spot di un'ottica di solito è a metà, quindi io sarei stato a f5.6, a f8 per scattare questa foto e avrei allungato i tempi di conseguenza. Parliamone nei commenti, non capisco come mai questa scelta di parametri, la foto in sé va bene, però io l'avrei scattata con dei parametri diversi. Qui abbiamo un'immagine virata, un seppia viola direi, post produzione un po' invasiva, mi domando come sarebbe stata senza questa post produzione se funzionava lo stesso. Allora la composizione di per sé ci sta, cioè questo banco di nebbia, le montagne eccetera, va tutto bene. Mi domando di nuovo come mai questi parametri? Cioè un duecentocinquantesimo di secondo ISO 6400? Perché? Perché? Non capisco. Io questa fotografia l'avrei scattata semplicissimamente a un sessantesimo di secondo, un ottantesimo di secondo e quindi avrei potuto scattare magari a ISO 1600, ISO 800, a meno che non sia fatto apposta. Mi domando a questo punto, abbiamo tenuto gli ISO alti apposta per avere rumore, per avere grana nella foto. Non lo so, non riesco a vedere un altro motivo perché così perdiamo gamma dinamica. Non lo so, io parliamo nei commenti, io le faccio diversamente. Io cerco di avere più gamma dinamica possibile, poi tanto a mettere contrasto si fa sempre in tempo in post produzione, ma a recuperare delle cose che abbiamo perso e qui il cielo chiaramente ha delle aree di perdita di dettaglio, quelle non le recuperiamo più. Andiamo avanti, qui abbiamo, è bellissimo, cascata con arcobaleno, questa basta, questa è la mia preferita, questa per me vince su tutte. Andiamo un po' a vedere i dati di scatto anche qui che sono un curioso. 34 mm f11, un 250esimo ISO 200. Allora qua ragazzi, qua la morte sua era mettersi su tre piedi, stessa inquadratura, la composizione va benissimo, stessa identica inquadratura, però un bel filtro ND e fare una posa da un minuto, tre minuti, quattro minuti, una roba del genere con una posa lunga, veniva una fucilata, cioè diventava una roba da copertina di National Geographic. Così ci sta comunque, posto bellissimo, inquadratura meravigliosa, i parametri vanno anche bene in questo caso, certo di nuovo siamo a un 250esimo, a me sembra che qui ci sia la tendenza a dire voglio scattare velocissimo, 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 deve essere tutto cristallizzato, sempre tutto perfetto, scatto con dei tempi pazzeschi a costo di sacrificare gli ISO. Secondo me molte volte è un peccato perché non ce n'è motivo molte volte, cioè in questo caso magari sì se vogliamo cristallizzare l'acqua va anche bene, poi un ISO 200 non è grave. Però in molte foto che abbiamo visto prima secondo me c'era o l'automatismo della macchina che sbagliava, questo è un peccato, io le avrei fatte in manuale tutte sempre, oppure la spiccata tendenza a dire io voglio scattare velocissimo per qualche motivo e io non sono d'accordissimo con questo, vedete che addirittura io avrei rallentato mettendo dei filtri. Prossima foto, ecco vedete con questa mi trovo più d'accordo, un 250esimo ma ISO 100, se siamo a ISO 100 e il tempo che ci viene fuori a un 250esimo a me va bene, in questo caso scattare veloce ci sta. Certo siamo a f2.8, potevamo chiudere a f5.6 e a quel punto scatta, scusate ho letto male, un 1250esimo. Non lo so, non lo so, io avrei chiuso il diaframma qua invece. Gli ISO vanno bene, quindi perlomeno la gamma dinamica non è sacrificata, però invece di scattare a un 1250esimo una scena statica, perché è una scena statica, è tutto fermo, non sta succedendo niente. Intanto io qui comunque cavalletto, filtri ND, posa lunga, l'avrei giocata diversamente perché l'acqua con effetto sete alle nuvole mosse qui, secondo me facevano vedere un lato tecnico migliore, a parere mio. Per il resto scattare a un 1250esimo una scena statica, sacrificando il diaframma perché stiamo scattando a f2.8, secondo me è sempre un peccato. Io qui avrei scattato a f11 e i tempi li avrei allungati di conseguenza, tanto veniva fuori un 125esimo, quindi potevamo tranquillamente scattarla comunque a mano libera, anche senza fare posa lunga. Però chiudendo a f8 e f11 avevamo una nitidezza migliore su tutto quanto il fotogramma, secondo me, poi parliamo nei commenti per come ho imparato io, questi sono dei dati di scatto che penalizzano l'immagine, per quanto poi è bella, lo vediamo, la resa finale è ok, però secondo me è penalizzante scattarla così. Di nuovo stessa cosa, questa qui devo dire, la composizione mi piace molto, funziona tutto molto bene, di nuovo io avrei fatto una posa lunga perché secondo me qui l'acqua tutta seta sarebbe stata ancora più bella, però inquadratura bella. Sui colori forse avrei spinto un pochino di più con la vividezza, però anche qui siamo a f2.8 e un 640esimo, è molto anomalo secondo me scattare un paesaggio così rapido e però con un diaframma così aperto, io lo trovo un po' anomalo. Ditemi voi cosa ne pensate nei commenti. Vabbè, questo non ha bisogno di presentazioni, lo conosciamo, anche questa potrebbe stare tra le mie preferite e ragazzi, cioè io non dico più niente, guardate i dati di scatto di questa, 24 mm, f8, 19 secondi, quindi qui l'acqua, l'acqua setosa più o meno c'è, ISO 50. Non ho altre domande, cioè preferite questa o preferite quelle viste in precedenza? Attenzione, qui ci sono anche delle accortezze maggiori, eravamo su tre piedi, abbiamo studiato di più la posa, le altre magari eravamo in giro, le abbiamo fatte mentre camminavamo, ci sta che questa sia più studiata e quindi abbia qualcosa di meglio, però la vedete la differenza tra questa e quelle fatte in precedenza? Erano belle anche quelle fatte in precedenza, però i dati di scatto di questa sono giusti, sono perfetti per quello che stiamo facendo, quelle fatte prima anche se poi possono essere venute bene, secondo me i dati non erano il meglio che potevamo avere. Altro panorama e qui di nuovo non vedo i dati di scatto, quindi questa forse è sticciata, niente da dire, bella, funziona molto bene, non capisco bene dove... Castelluccio, piana di Castelluccio, non credo di esserci mai stata, bella, bei colori, composizione giustissima, ci sta, immagino che siamo sempre con la Nikon che comunque sforna dei bei file, niente da dire, questa funziona, queste sono tutte immagini che stampi anche tranquillamente, questa qua io la vedrei benissimo stampata in una casetta di montagna, te la stampi e te la appendi, ci sta benissimo. Rocca Calascio la riconosci immediatamente anche se non ci sei mai stato, bell'immagine, non vedo i dati di scatto neanche qui, chissà perché, l'immagine va bene, immagine che comunque mi piace abbastanza, l'unica cosa non riesco a capire se forse Rocca Calascio è un po' stortignacola di suo, la vedo un po' stortina, io sapete che guardo sempre le linee che siano dritte, io la vedo un po', è come se si adagiasse sulla montagna, forse è un po' storta effettivamente, però io in post forse l'avrei girata un pochino per raddrizzarla. Esposizione secondo me va bene, non vedo i dati di scatto, però io vi dico una cosa, io qua avrei sicuramente fatto un HDR per recuperare un po' di informazioni nelle nuvole, perché nelle alte luci delle nuvole chiaramente qualche piccola perdita di dettaglio c'è e questo è un peccato perché già che siamo andati lì io avrei fatto un bel HDR su tre piede in maniera tale da poter fare quello che voglio poi in post produzione e vi dirò di più, non so se sia stato fatto o meno, magari è stato fatto e quindi è già stato fatto tutto quello che si poteva. Qui io avrei visto molto bene un polarizzatore per cercare di tirare fuori un po' più di cielo, magari c'è e magari la scena vera senza polarizzatore aveva il cielo tutto bianco e invece così l'abbiamo già recuperato, però è una cosa ulteriore che si poteva fare. Globalmente la foto funziona, è bella, sto soltanto cercando cose che io avrei pensato di fare in più. Nuovo panorama e vedete questo è molto meglio, il lago è tutto preso per intero, le montagne sono prese per intero con un po' d'aria sopra le cime, non c'è troppa terra, troppa spianata di niente davanti, io anche quella di cui parlavamo all'inizio l'avrei rifilata così, secondo me funziona molto meglio. E questa ragazzi era l'ultima immagine di questo portfolio, portfolio chiaramente montano, io apprezzo molto questo tipo di scene perché sono affezionato alla montagna, mi piacciono un sacco. Cosa dire su questo portfolio? Globalmente secondo me abbiamo a che fare con un fotografo che dovrebbe sapere il fatto suo perché fa delle cose anche abbastanza tecniche, quindi quando vuole lo sa fare bene. Quello che mi domando, il mio consiglio, la mia domanda, mettetela giù come volete, è ci sono alcune foto che secondo me potevano essere gestite molto meglio e anche se la resa finale è ok perché tu le guardi e dici non è che è cannata, non è che non va bene, va bene così, però poteva essere meglio. Con dei dati exit di questo tipo, con dei parametri di scatto di questo tipo, abbiamo sacrificato qualcosa in determinati scatti e mi domando il perché, perché secondo me non era necessario sacrificare qualcosa e quindi mi domando, ci sono dei motivi per aver scattato così in determinati ambiti, i motivi che io non vedo? Stavamo scattando in full automatic e la macchina ha fatto da sola? C'era un motivo per cui avevamo fretta e non avevamo tempo di cambiare i parametri? Mi pongo questa domanda perché avete visto la foto sul lago di Braes? Lo sappiamo fare, lo sappiamo come si fa. Abbiamo fatto una posa di 20 secondi di giorno, quindi secondo me c'era pure un filtro ND, quindi le sappiamo tutte queste cose e quindi io mi domando perché non le facciamo sempre? La risposta può essere non abbiamo voglia, non abbiamo tempo, eravamo con una comitiva che andava, non potevamo fermarci, 100 motivi diversi. Però io me lo domando e in ottica di dirvi cosa ne penso la mia domanda è perché non le abbiamo scattate tutte con una posa un pochino meno serrata e con gli iso un pochettino più distribuiti e col diaframma un pochino più chiuso? Questo è quello che io mi domando. Magari era la cosa migliore da fare, magari no. Però sono contento perché in questo video abbiamo visto delle cose che normalmente non troviamo sul mio canale, quindi abbiamo visto i fulmini, abbiamo visto i fuochi d'artificio, abbiamo visto un aereo, tutte cose che normalmente io faccio fatica a portarvi perché non le fotografo spesso, quindi oggi sono particolarmente soddisfatto di questa cosa. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché arriveranno altre immagini e molti di voi sono, come abbiamo visto oggi, sono anche bravini, quindi vediamo delle cose comunque anche magari che io non faccio, che io non padroneggio e quindi impareremo delle cose anche se io magari non le so neanche fare. Per questo e altri motivi vi invito a iscrivervi e lasciarmi anche un like a questo video perché voi non ve ne accorgete ma mi aiuta moltissimo con l'algoritmo. Signori, è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video.